snap maker a 350 ragazzi stampante 3d incisore laser cnc il tutto chiuso nel suo box ciao ragazzi se vi dico snap maker vi viene in mente nulla bene all'interno di questa grande scatola c'è una stampante 3d che funge sia incisore laser ma funziona anche da cnc per fresare il legno e non solo quindi acrilico eccetera il tutto che si può avvolgere da un grande box ragazzi di tecnologia davvero all'avanguardia una macchina spettacolare che richiede più di un video in realtà per poterla recensire quindi nel primo video vi farò vedere intanto l'unboxing quindi il contenuto della confezione e le successivi la metteremo alla prova quindi sdraio la scatola e vediamo quello che troviamo al suo interno ragazzi tutto imballato in modo molto ordinato questi sono i vari profili in questa grande scatola invece troviamo i tre pianetti che ci permettono sia di stampare in 3d di incidere con l'incisore laser oppure di utilizzare la cnc per fresare quindi l'alimentatore e ovviamente anche gli adattatori un'intera bobina di pla di colore nero marchiato ovviamente a snap maker l'alimentatore ragazzi che spettacolo chiamiamolo pianetto enorme guardate che qualità costruttiva vabbè ma snap maker sappiamo che non ha bisogno di presentazioni qua troviamo tutta la struttura richiudibile che ci permette di tenere la stampante protetta e creare un vero e proprio box in black in plexiglass e metallo che per esempio è quello tra chi tra i più interessanti perché anche i led quindi una struttura illuminata all'interno anche una colorazione meravigliosa tendente quasi lilla un grigio lilla guardate che bello queste sono le sedi per le viti ovviamente già filettate per poter unire il tutto guardate anche questi profili si vede la qualità generale di tutto ragazzi ve lo dico ad ogni pezzo perché ad ogni pezzo sto rimanendo davvero colpito dalla cura maniacale sia nel posizionamento dei vari pezzi l'imballaggio come sono definiti e rifiniti in tutti i particolari davvero incredibile è difficile trovare prodotti di questo tipo voglio dire con il prezzo che sarebbe il minimo prima di passare alla scatolina che contiene tutto il materiale gli utensili gli accessori per poter montare la struttura vi faccio vedere il pannello in plexiglass che saranno protetti sicuramente da una pellicola e infatti allora questa è la struttura che ci permette di avere una sorta di porta soffietto chiamiamola così con questa giorni era e poi abbiamo il plexiglass che in realtà è un color rosso allora ne tolgo una parte un rosso arancione e questo ci permette pure di guardare il laser mentre in funzione va bene poi lo vedremo ovviamente tutto montato questa è solo una rapidissima presentazione questa invece alla scatolina che come vedete alle immagini contiene tutto il materiale per l'aspirazione per espellere tutti i fumi e sarà divertentissimo da montare l'altra scatolina contiene gli altri sportelli non ve li faccio vedere perché sono semplicemente più grandi di quelle che abbiamo appena visto e questa è la scatola con il materiale per il montaggio troviamo i vari connettori il cablaggio le viti sono tante viti ma quasi tutte della stessa misura suddivise in diversi sacchettini quindi sicuramente per step e quindi ci faciliterà il lavoro di montaggio se si vuole si può montare il box oppure si può utilizzare pure libera senza box comunque questo è il contenuto di questa scatolina sarà un bel lavoro di fai da te per montare qualcosa che poi lavorerà al posto mio ma devo farvi assolutamente vedere uno dei profili poi vi farò vedere i pezzi più importanti perché se non vediamo quelli ragazzi penso che non sia nemmeno necessario commentare una qualità straordinaria si vede la cura davvero maniacale va benissimo e sono quasi indeciso per farvi vedere prima le varie testine che ci permetteranno di utilizzarla diversamente oppure il pannellino magari guardiamo le testine allora questo è l'estrusore direct drive per la stampa 3d con le bocchette di reazione il sensore per l'autolivellamento un bel peso fa capire che c'è qualità pure su questo poi vediamo questo che penso che lo adorerò lo utilizzerò tantissimo e il motore quindi la testina della cnc ovviamente poi quando hanno messe le pinze e le frese e quindi ci permetterà di utilizzarla a posto di questa o addirittura possiamo utilizzare l'incisore laser questo è il modulo laser a diodo con una potenza a ridotto e 6 quindi un modulo laser adatto più che altro a realizzare incisioni disegni e forse anche qualche ritaglio dotato anche di una telecamera perché ragazzi questo prodotto alla telecamera che ci permette di posizionare il pezzo tramite computer sulla superficie nella quale vogliamo incidere e poi diamo l'ok e andrà ad incidere esattamente nel punto che vogliamo quando farò la recensione rimarrete sbalorditi e va bene va bene non vi arrabbiate non vi arrabbiate vi faccio vedere anche questo pannellino meraviglioso ragazzi sembra di avere fra le mani uno smartphone di ultima generazione sia dal peso la robustezza tutto il display e touch per ora c'è una pellicola che lo rende opaco ma poi vedrete i colori brillanti vedrete il tutto e questa diciamo chiamiamola centralina con tutti i connettori ovviamente sotto abbiamo i cavi e questo è il supporto per posizionare il display apriamo apriamo subito perché all'interno abbiamo tutto quello che serve per montarlo ed è un bel kit un piccolo kit dove si possono riporre tutte le varie viti le minuterie queste sono le due tre sette ma snap maker ha pensato pure alla sicurezza quindi gli occhiali protettivi per il laser devo controllare e assicurarvi se siano certificati o meno e anche gli occhialini per la protezione quando si utilizza la cnc per evitare che qualche detrito possa colpirci anche questi protetti con una pellicola ragazzi quando vi dico cura maniacale e cura maniacale quindi nel prossimo video vedremo il montaggio e poi la vedremo in funzione detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace qua giù cliccare sulla campanella anche per attivare le notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo e a presto ciao 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 Grazie a tutti.